12 studenti dell'istituto di istruzione superiore Gasparrini sono stati premiati con altrettante borse di studio nell'ambito della giornata del merito, iniziativa ideata e realizzata dall'associazione Pro Gasparrini, composta da ex studenti della storica scuola Melfitano. Per quanto riguarda le sei borse di studio della borsa di studio Paolo Tedeschi, alla quale contribuisce anche l'amministrazione comunale, abbiamo Luigi Lamorte, Alessia Moroso, Francesca Mazzucca, Letizia Di Mando, Alessia Del Rico e Andrea Grimolizzi. A queste si aggiungono quattro borse di studio che eroga l'associazione Pro Gasparrini e sono Gaia Placido, Andri, Insellari, Veronica Zaccagnino, Donato, Sarkuno. Poi ci sono altre due borse di studio per la prima volta quest'anno ai ragazzi dell'alberghiero che fanno parte anche loro dell'istituto Gasparrini. Come siete arrivati a scegliere questi ragazzi? C'è una selezione che viene fatta sulla base dei curriculum, dei voti, delle presenze a scuola e quindi di un profilo che indicano gli insegnanti che poi verrà letto ai ragazzi per testimoniare la loro attenzione ai valori della scuola e che li rendono appunto degni di meritare questa borsa di studio. Premiate dunque le eccellenze della scuola. Premiare le eccellenze, non le eccezioni. Tant'è che il titolo che abbiamo dato a questa giornata è proprio questo. Perché questo? Perché non è eccezionale essere degli eccellenti a scuola. Perché tutti i ragazzi sono posti nella condizione di arrivare a dei risultati di merito di un certo ambito, no? E allora eccole qui le eccellenze, non però si auspica solo eccezioni. È un'emozione grande perché tutto lo studio è stato premiato finalmente. Le tue materie preferite a scuola quali sono? Alimentazione in primis, poi abbiamo ricevimento che è la mia materia di indirizzo e poi tutte le altre, ma alla fine è un misto. Sì è una grandissima soddisfazione e finalmente l'impegno viene ripagato. In vicino a Morte te lo aspettavi? Onestamente no, però ho dato molto soddisfazione questa cosa, quindi mi sento onorato diciamo. Come hai fatto a vincere questa borsa di studio? Curriculum eccellente, presenze a scuole? Impegnandomi e non tralasciando lo studio come gli amici e la famiglia. Ti piace questa scuola? Sì. Cosa ti piace di più? Mi piace materie umanistiche rispetto a quelle tecniche diciamo. Farai l'università dopo il Gasparini? Sì. Hai già scelto cosa? Architettura e design. Dove? A pescara.